Siamo vicini al territorio, quindi abbiamo negli ultimi anni fatto una politica proprio per assistere quanto più possibile famiglie e imprese. Assistere famiglie e imprese del territorio, così Sandro Bertini, presidente della BCC di Recanati e Colmurano, presenta l'accordo tra il suo istituto di credito e Confidi Macerata. La BCC mette a disposizione un plafond, poi il Confidi provvede a dare la garanzia e questo serve alle micro imprese, alle piccole imprese per poter accedere più facilmente al credito. E dunque un accesso al credito più agevolato per rilanciare le imprese per Confidi Macerata, che opera dal 1975 a sostegno delle aziende del territorio, una sinergia importante. Vogliamo essere di sostegno alle imprese e vogliamo anche creargli quel ponte fiduciario tra le banche e le imprese stesse, in modo da generare massima opportunità per quelle che possono essere le condizioni. E dato che noi conosciamo bene le imprese, perché è un confidi in particolare, generato è un confidi industriale, ma lavora a 360 gradi, vogliamo essere i promotori di quei progetti, di quelle iniziative e quelle capacità dell'imprenditore che devono essere enfatizzate e possono portare avanti dei progetti per il presente e per il prossimo futuro. Quindi ci siamo, la BCC ci è vicina, creiamo interazione e guardiamo avanti.